conoscerete probabilmente già la storiella della madre che va a bussare alla porta della camera del figlio e gli dice dai sveglia è ora di andare a messa no ma non ho voglia di andare a messa non hai voglia di andare a messa certo che ci vai ma perché devo andare a messa perché devi andare a messa per tre motivi guarda primo perché domenica domenica si va a messa secondo perché sono già tutti in cattedrale ma anche solo tu terzo perché sei il vescovo e finché non arrivi tu e quelli non cominciano è una storiella che mette al centro quella curiosa tendenza radicata in ciascuno di noi e che si manifesta o più o meno nella vita è la tendenza a rimanere sotto le coperte della storia rimanere un po al di qua dell'inizio della giornata rimanere al di qua dell'assunzione delle nostre responsabilità quella fatica che facciamo avarcare la soglia della vita quando la vita ci chiama ad affrontarla è una tendenza così radicata che secondo il grande racconto biblico noi ci facciamo i conti fin dall'inizio in qualche modo secondo genesi 3 ricorderete il serpente inocula quelle parole velenose amare nell'orecchio nel cuore dell'uomo e della donna suggerendo che ma dai in fin dei conti non c'è da fidarsi della parola del creatore no e quell'albero della conoscenza del bene e del male è tutt'altro che pericoloso e quindi quando l'uomo e la donna mangiano del frutto di cui non dovrebbero mangiare la prima reazione la prima conseguenza è la paura l'uomo e la donna hanno paura perché si scoprono nudi e quindi si nascondono tra gli alberi e cespugli del giardino quello che fino a quel momento è stato il teatro dell'incontro tra l'uomo la donna e il creatore a quel punto diventa il luogo del nascondimento e quando dio scende preceduto dalla brezza della sera per passeggiare con l'uomo e la donna come al solito e non li trova li chiama no ma dove sei chiede all'uomo e lascia emergere quella domanda che rotola attraverso i secoli le geografie che raggiunge ognuno di noi no il signore che dice ma dove sei ma dov'è che sei finito da chi sei nascosto sotto quali coperte ti sei nascosto e l'uomo risponde da dietro al cespuglio sono qui mi sono nascosto perché sono nudo ho avuto paura mi sono mi sono messo un po da parte e il signore dice ma ma chi ti ha fatto sapere che rinunciato che sei nudo non sarà mica un problema no è chiaro non è mai stato un problema per te essere nudo perché non avrei forse mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare e l'uomo da dietro al cespuglio alza la voce dice ma guarda che non è colpa mia eh no signore lascia che te lo dica le cose stanno così la donna che tu mi hai posto accanto che sa poi perché me l'hai posto accanto che stavamo così bene tu e io da soli la donna che tu mi hai posto accanto mi ha detto di mangiare e io ho mangiato non è colpa mia eccolo lì l'atteggiamento di chi si nasconde sotto le coperte della storia su chi non si assume le sue responsabilità il creatore si rivolge alla donna dice ma cosa hai fatto è anche la donna dietro al cespuglio e no signore scusami adesso dico anche io la mia non è colpa mia il serpente che chissà chi ha messo nel giardino il serpente mi ha ingannato io ho mangiato siamo affetti da questa curiosa tensione a scaricare le nostre responsabilità a stare al di qua dell'assunzione delle responsabilità questa tendenza a rimandare l'appuntamento con la vita Giovanni Pagazzi un bravo teologo dei nostri giorni scrive a riguardo di tutto questo qualche cosa che ci aiuta a interpretare tanto più il fenomeno che con cui abbiamo a che fare in questi due anni di pandemia si è amplificato il fenomeno di quei quegli adolescenti quei giovani che faticano a varcare la soglia della giornata faticano a ritornare al ritmo consueto di lavoro spesso faticano anche ad uscire dal letto per affrontare la giornata di scuola Giovanni Pagazzi scrive la sonnolenza dell'indolente non è innanzitutto è solamente causa di scarso impegno il suo torpore è piuttosto l'effetto di un profondo sentimento di tristezza per l'assenza di motivazioni degne non esiste motivo che smuova muova emotivi un movimento un'azione la pigrizia sonnolenta è conseguenza del severo giudizio in primo luogo affettivo circa l'insensatezza di una situazione o della vita tutta cioè perché uno non si alza dal letto perché non affronta la giornata perché una parte di lui in fondo dice ma non ne vale la pena ma non serve non c'è una direzione non c'è un senso è una fregatura è la suggestione che il serpente da sempre rovescia nel cuore di ognuno di noi no guarda che la vita è una fregatura sembra che ti venga incontro con qualche benedizione ma in realtà la vita è gelosa dio è geloso allora perché affrontare la giornata se per nulla se per il nulla alle volte la tendenza a rimanere nascosti a non varcare la soglia dell'avventura di vivere davvero si manifesta con una certa mancanza di coraggio uno apre il racconto della divina commedia e trova fin da subito questo tema dante che si mette in cammino dietro a virgilio per uscire dalla selva oscura affrontare il percorso attraverso i regni d'oltre tomba ma all'inizio del secondo caldo dell'inferno subito si blocca perché lo coglie un pensiero dice ma io ma che cosa sto facendo io vivente sto avviando un percorso mi sto avviando per un percorso attraverso inferno purgatorio paradiso ma nessuno mai l'ha fatto questo giusto enea e paolo di tarso ma io non sono enea io non sono san paolo enea aveva una missione un compito di fondare roma perché roma sarebbe stata il centro di un disegno di provvidenza san paolo aveva da raccontare la verità delle cose vedute nell'oltre tomba per dare vigore alla nascente fede cristiana questi avevano erano fatti di un'altra stofa di un'altra pasta io io non sono paolo io non sono enea e virgilio lo inchioda con lo sguardo e gli dice guarda bello ti aiuto a dare un nome a quello che stai vivendo questo si chiama viltà la tua anima ed abiltà di offesa e ti dico come affrontarla intanto ti chiarisco che io sono qui perché tutto un gran movimento di grazia si è messo in gioco perché la vergine maria dal profondo dei cieli ha posto su di te lo sguardo ti ha visto in difficoltà nella serva oscura si è rivolta santa lucia di cui tu sei devoto da una vita lucia è andata da beatrice di cui sei innamorato da una vita non ne possiamo più beatrice è venuta da me nel limbo per dirmi fai qualcosa mezzo cielo si è messo in movimento per te la grazia si è messa in movimento in molti modi perché tu potessi affrontare questo cammino sapere questo che ti sto dicendo deve aiutarti a liberare le energie nascoste le risorse ancora impantanate e dante dice usa la similitudine dei fiorellini che si aprono come si sono chiusi nella notte per difendersi dal gelo così al primo sorgere del sole al primo raggio che li sfiora e i fiorellini si aprono nuovo vigore li apre ad affrontare la giornata vengono fuori dalle coperte della storia e dante dice le parole di virgilio il fatto che mi dicesse che tanta grazia tanta cura tanto amore mi accompagnava nel mio cammino mi permese di aprirmi con fiducia e di affrontare il cammino con determinazione di questo abbiamo bisogno di questo siamo in cerca di questo abbiamo fame e sete di sguardi e di presenze di questo tipo che ci destino a un modo nuovo di affrontare la vita che ci permettano di uscire da sotto le coperte della storia per affrontare le nostre responsabilità van gogh vincent van gogh in una delle tante lettere che scrive al fratello theo dice cerca di difendersi dalla accusa che sente gravare su di sé di essere un fannullone perché di fatto in effetti lui scrive questa lettera a 27 anni sono dieci anni che cerca il suo sentiero nel mondo e non lo trova sono dieci anni che i suoi tentativi falliscono miseramente si è prima dato da fare in una casa di opere d'arte senza combinare nulla si è dato da fare in una libreria è stato licenziato ha fatto il presettore in inghilterra con scarso fortuna ha cercato di entrare in una scuola di teologia ma non l'hanno ammesso ha cercato di diventare un predicatore laico ma anche lì fallimento insomma dieci anni di fallimenti e questo giovane sente di avere qualche cosa di profondo da da poter consegnare a cui mettere mano ma non riesce a definirlo scrive al fratello teo io vorrei che tu riuscissi a vedere in me qualcosa d'altro che una specie di fannullone perché c'è fannullone e fannullone c'è chi è fannullone per pigrizia e per mollezza di carattere per la bassezza della sua natura e tu puoi anche prendermi per uno di quelli ma poi c'è l'altro tipo di fannullone il fannullone per forza che eroso intimamente da un grande desiderio d'azione che non fa nulla perché è nell'impossibilità di fare qualcosa perché gli manca ciò che gli è necessario per produrre perché è come in una prigione chiuso in qualche cosa perché la fatalità delle circostanze lo ha ridotto a tal punto non sempre uno sa quello che potrebbe fare ma lo sente distinto eppure sono buono a qualcosa sento in me una ragione d'essere so che potrei essere un uomo completamente diverso a che cosa potrei essere utile a che cosa potrei servire c'è qualcosa in me che cos'è dunque beh questo è un tipo tutto diverso di fannullone se vuoi puoi considerarmi tale e più avanti nella lettera continua dicendo io mi sento prigioniero di qualche cosa non so definire le sbarre di questa prigione che cosa siano ma sento di essere prigioniero e continua e poi uno si chiede mio dio ma durerà molto questo senso di prigionia durerà sempre durerà per l'eternità sai tu ciò che fa sparire questa prigione è un affetto profondo serio essere amici essere fratelli amare spalanca la prigione per potere sorrano per grazia potente sta dicendo al fratello ho bisogno che tu creda in me che tu mi stia accanto che tu mi dia credito essere fratelli ci libera da questa prigione da questa da questa solitudine che ci uccide allora capiamo il senso profondo di quello che luca racconta lì dove dice che l'angelo accede alla presenza di maria si rende presente a maria e le rivolge il saluto gioisci tu che sei stata amata gratuitamente si può tradurre così amata gratuitamente e in un modo disteso nel tempo tu che sei stata colmata di grazie ma il verbo greco a questa espressione qui questo senso profondo l'essere amati gratuitamente e in un modo che perdura nel tempo gioisci il signore è con te e luca dice maria rimane perplessa di fronte a questo saluto che richiama il saluto che nell'antico testamento e a maria che conosce grandi racconti biblici risuona in cuore l'immagine di gedeone l'angelo che si rivolge a questo che è uno dei primi grandi giudici in israele si rivolge a simeone con un saluto simile ti saluto o uomo forte e coraggioso il signore è con te e in quel racconto gedeone riceve un incarico dall'angelo del signore una missione un compito di prendere per mano il popolo di israele e condurlo ad affrontare i nemici di israele che vessano il popolo questa è la vocazione di impegno la missione di gedeone e allora maria rimane perplessa perché si chiede qual è il mio compito la mia missione che cosa mi è chiesto e l'angelo le racconta il messia di israele l'atteso di israele ha bisogno di una madre questo è il tuo compito la tua responsabilità la responsabilità che ti ha affidata che ti offerta è questo il bussare alla tua porta uscirai dalle coperte affronterai la responsabilità affronterai il dono e maria dice ma io non riesco neanche a immaginare come sia possibile come è possibile non conosco uomo e gli esegeti su questa frase si accaniscono perché non è tanto chiaro che cosa voglia dire non conosco uomo luca ci ha appena detto che maria è promessa sposa di un uomo di nome giuseppe promessa sposa vuol dire che ha già vissuto il rito di primo rito di matrimonio che l'ha introdotta al fidanzamento ufficiale sono sostanzialmente già sposati anche se non vivono ancora insieme che cosa vuol dire non conosco uomo qualche esegeta suggerisce che maria abbia in prospettiva una vita di verginità ma questo non è chiaro in ogni caso l'angelo le dice la presenza dell'altissimo ti si farà incontro con tale incandescenza da accendere in te la vita da accendere in te il respiro di un bimbo e ti chilesum nei suoi diari lascia un passaggio che ci aiuta a interpretare l'esperienza che maria fa di una dilatazione di orizzonti maria entra in una visione diversa delle cose perché l'altissimo la accende a una prospettiva nuova nella vita e ti quando già in campo di concentramento scrive il cammino all'improvviso si apre su una vista del tutto diversa su questa vita la maggioranza della gente ha in testa idee formate su dei cliché ma nell'intimo ci si deve liberare di tutto di ogni comprensione preesistente di ogni slogan di ogni legame si deve avere la forza di lasciare andare tutto ogni norma ogni punto d'appoggio convenzionale si deve osare il rischio del grande balzo nel cosmo e allora allora la vita è così infinitamente traboccante perfino nelle sue sofferenze più profonde questo vive maria l'ingresso in una prospettiva di vita completamente nuova l'angelo le dice come virgilio a dante il cielo si è inginocchiato per venirti a cercare tu sei la piena di grazia quelli che è stata amata con lei che è stata amata gratuitamente e continuamente fino in fondo la presenza dell'altissimo è creatrice ti libera dai vincoli che ti impediscono di immaginare un orizzonte nuovo bisogna lasciare tutto di cetti per buttarsi nell'avventura della vita il signore è con te il signore è con te chiediamo che anche nella nostra vita si accenda una presenza che ci rilanci nella vita che bussando alla nostra porta ci chiami ad affrontare l'avventura di vivere davvero ci permetta di riassumerci le nostre responsabilità di affrontarle con coraggio con generosità lo chiediamo per noi e per le persone che faticano a trovare il loro sentiero nella vita che si sentono spente che si sentono disorientate che attendono che una presenza incandescente amica che accenda l'amore nel fondo della vita attendono che una presenza così si manifesti la presenza di un angelo del signore di un amico dice a Van Gogh di un fratello di una sorella chiediamo che sia donato a noi e a chi si sente perso in questo mondo che sembra farsi buio nella grande avventura il signore ci accompagni